sono libero me l'ha parata me l'ha parata dovevo farli il pallonetto dovevo farli non ci ho pensato ci provo deviata ci riproviamo vediamo che cosa so fare non 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 ci riproviamo vediamo che cosa so fare in questo momento così sfonto il portiere questa volta attenzione attenzione agli avversari c'è il portiere vediamo se riesco a saltarlo si ci riesco non c'è nessuno però al centro devo fare tutto da solo mi accentro io e mi rompono palla attenzione perché no no sono cose che a me non mi piacciono vediamo se riesco ad accentrarmi e a trovarci mamma mia ci potevo provare mamma mia che tiro che gol ha spuntato lui da porta questa volta questa si chiama squadra finisce qua il primo tempo attenzione al secondo attenzione perché recuperiamo un pallone incredibile io non mi voglio accontentare di un 1 a 0 nemmeno fatto da meno mi voglio accontentare passamela niente da fare niente da fare in mezzo ci sono pure io non si capisce che cosa abbia voluto fare così stavo per tirare anche io si deviazione ogni tanto fortunata ci provo in giornata no in giornata no vediamo se riesco ad accentrarmi e riesco a provare il tiro ma niente da fare niente da fare fuori gioco e l'arbitro mi toglie perché è stata una partita nulla per me abbiamo vinto ovviamente e passiamo anche il turno di coppa partita contro Vitesse in campionato e le divise andiamo a giocare in trasferta raga siamo sotto la neve attenzione non sappiamo giocare nemmeno nel campo normale figuriamoci sotto la neve anche se le ultime partite mi sono piaciute parecchio cominciamo così già si fa scivolare il pallone vabbè attenzione recupera palla che la passo vediamo se riesco a fare qualcosa io mi accentro intanto ci prova Rete bellissima azione incredibile sarà la neve raga io me ne vado avanti così se mi passano la palla se mi passano la palla ma se attenzione al Vitesse che se attacca ci fanno quello ci fanno passamela ci posso provare centrale attenzione al Vitesse che tenta di attaccare però la difesa fortunatamente c'è andiamo così dai dai bellissimo bellissimo ci provo e me la para la mette in mezzo di testa troppo alta attenzione al Vitesse che tenta di pareggiare questa partita non sa cosa stiano facendo un passaggio fatto nemmeno loro sanno come che stava rischiando di farsi prendere gol incredibile attenzione al Vitesse si porta in attacco la mette in mezzo e c'è il difensore calcio d'angolo ok ok vediamo se riusciamo ad attaccare a fare qualcosa di bello vediamo se riusciamo a saltarne qualcuno ma io ci provo proprio da qui traversa un fulmine attenzione attenzione perché ho un'altra occasione ho un'altra occasione da poter sfruttare ehi non mi tenere la maglia questo è fallo è fallo è fallo vediamo se me la passa la palla ci posso provare d'effetto niente da fare ancora siamo lì può provare il tiro rete rete chiudiamo questo primo tempo lo chiudiamo in vantaggio appunto finisce il primo tempo ok recuperiamo palla passaggi di merda per ora è così attenzione al vitezza che con un passaggio fulminio proprio calcio d'angolo per loro il difensore spazza e ci arrivo anche io a prendere la palla me la trascino fuori però purtroppo il campo è innevato fa scivolare troppo attenzione attenzione scivola troppo sto pallone me ne vado al centro vediamo difficile saltarli attenzione però ci riesco con una serie di dribbling attenzione ci riesco rete 3 a 0 e arriva il gol anche per me serie di passaggi per l'Ajax attenzione stile Real Madrid me ne vado sulla fascia vediamo se riesce a crossar niente ancora serie di passaggi infinita attenzione attenzione perché c'è anche il rischio con questa serie di passaggi attenzione bellissimo bellissimo si riesce a crossarmela in mezzo però lui è più avvantaggiato di me il difensore attenzione non è finita l'azione però eh non è finita perché io sono qui ci posso provare me la para vediamo se riesco a farmela passare non ci arrivo di testa nemmeno ci provo in realtà però niente da fare niente da fare niente da fare attenzione il vitesse ci prova adesso ad accorciare le distanze anche se ormai il tempo sembra finire attenzione ancora portierone incredibile attenzione perché la palla adesso è nostra possiamo fare il contropiede ovvero posso farlo da solo posso farlo da solo se riesco a correre con questo campo è difficilissimo tengo la palla lì non so nemmeno io come passo la palla attenzione attenzione perché ancora la nostra invece no invece no peccato bellissima azione attenzione ancora il vitesse ci prova con tutte le sue forze ci prova prende il difensore bellissimo lì non ci può arrivare nessuno però il pallone scivola con la neve quindi attenzione 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 al vitesse ci prova proprio con tutte le loro forze ci provano questi qua senza successo ovviamente finisce la partita 3 a 0 bella vittoria ok abbiamo penso l'ultima partita della fase gironi di europa league infatti è così andiamo a prenderci questo girone anche perché siamo primi e ci dobbiamo rimanere eccoci qua andiamo a prenderci questi tre punti importantissimi per vincere per vincere il girone vai così bellissima azione cominciamo bene così però io no io non comincio bene per niente ok bellissimo recupero vediamo se io le riesco a mettere in mezzo e con un versaggio me la doveva ripassare a me però niente da fare attenzione perché una serie di rimpalli però sfortunati a noi ok finalmente recupera palla ok passamela in mezzo che io ci potrei vabbè dai è impossibile è impossibile non riusciamo a recuperare palla incredibile no no allora questi errori non si possono guardare però abbiamo fatto bene finora abbiamo fatto bene finora e cosa facciamo adesso rischiamo di prendere un gol senza motivo me la poteva crossare di velocità però vabbè non l'ha fatto ok recupera palla io ci sono avanti bellissimo vediamo se riesco a saltarlo se riesco a saltarlo vediamo forse ci riesco ok ci sono riuscito adesso ero riuscito anche ad accettarmi per sfortuna mi ha rubato palla attenzione bellissimo abbiamo recuperato un pallone difficile io c'ero lì porca vai così bellissimo arrivaci arrivaci bello bello un cazzo però allora mi devo concentrare madonna un tiro ha fatto non un cross ma perché dai perché attenzione perché questi rischiano di farci un gol di farci lì a Grazie a tutti.